Ciao amici di Italian Fishing TV, ben trovati per questa nuovissima puntata di PhotoFish. Oggi mi trovo a Cupra Montana, la patria del verdicchio, un piccolo centro nell'entroterra marchigiano e in tal proposito stiamo per entrare nei musei in grotta. Pensate che in questo museo in grotta sono esposte oltre 90.000 etichette di vino e liquori. A partire dagli anni 80 alcuni abitanti del luogo hanno iniziato a collezionare etichette provenienti da tutto il mondo e così si è potuto dare vita a questa bellissima realtà che pensate è unica nel mondo. Dal secondo dopoguerra si sono contate in questo piccolissimo territorio oltre 40 cantine. Pensate alla produttività di questo luogo e la prima domenica di ottobre, oramai da 86 anni, si festeggia la famosissima Sagra dell'Uva. Adesso direi di iniziare la nostra top 5. Ad aprire la classifica è lo scatto di Alessio, pesca sulla neve. Questa sì che è una vera passione. Immersa tra le tante etichette di questo bellissimo museo, arriviamo al quarto posto. Quando si dice che un'immagine è come una cartolina, è lo scatto di Cinzia che si aggiudica la quarta posizione. Iniziamo a salire sul podio e la medaglia di bronzo va allo scatto di Nathan. Le grandi passioni iniziano da molto piccolini e difatti questa immagine ritrae un bambino con tutta la sua gioia in un momento di pesca. A fianco a questo antichissimo torchio del 1860 sono pronta ad annunciarvi la seconda piazza del podio. Ad aggiudicarsi la medaglia d'argento e lo scatto di Aldo con la sua bellissima cattura. Con tutte queste prestigiose bottiglie che mi fanno da sfondo scopriamo insieme chi è il vincitore di questa puntata di Photo Fish. Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro, la foto che mi ha inviato Giorgio. L'entusiasmo nel sorriso di questo giovanissimo pescatore ha decisamente catturato la mia attenzione. Anche Giorgio, come tutti gli altri vincitori di Photo Fish, si aggiudica un premio messo in palio da Italian Fish in TV. È arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tantissimo il sindaco di Cupra Montana, Enrico Giampieri, che mi ha dato la possibilità di accedere a questo spazio unico nel suo genere. Dalle settecentesche grotte del monastero di Santa Caterina, io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per una prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!